un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo con il libro con padre pio come in una fiaba tra sogno e realtà di padre pio capuano vogliamo raccontarvi in particolare quello che spesso accade in tanti figli spirito è accaduto in tanti figli spirituali di padre pio e in tanti tuttora stanno vivendo ecco quante volte è capitato di percepire un forte odore un forte profumo legandolo subito a padre pio perché poi accadeva qualcosa e le testimonianze sono veramente tante padre pio capuano ha fatto una sorta di elenco di questi profumi il tipo di profumo assegnando poi una sorta di significato ha cercato di dare una spiegazione perché probabili significati del dono dei profumi di padre pio che continua però ad essere avvertito tuttora non solo dai tuoi santi devoti ma anche da altre persone che forse hanno bisogno di una sua di una sua vicinanza hanno bisogno di un suo conforto e soprattutto forse scrive padre pio capuano hanno bisogno di una scossa spirituale ad esempio c'è padre giambattista con la vita da sant'elia pianisi che un giorno interroga direttamente padre pio e gli chiede ma padre perché questo profumo e padre pio risponde è segno che sto vicino all'anima la signora angela borrino di novara voleva conoscere il messaggio del profumo legato a diversi fiori ad esempio perché padre pio io percepisco questo odore di viola di ciclamino a volte di rosa a volte menta e poi accade qualcosa di particolare legato a lei e padre pio ironicamente rispose questo studio non l'ho ancora fatto tuttavia fece intendere però che qualche volta quando il profumo non era dei fiori poteva significare un richiamo una scossa infatti qualcuno voleva capire il motivo di questo profumo che non era un profumo ma forse un odore sgradito l'acido fenico no e allora padre pio disse prega purificati sta attento alle tentazioni c'è qualcosa che non va può essere un possibile messaggio questo ma che è stato trasmesso da padre pio tanto è vero che comunque una cosa è certa come si può evincere dalle tantissime testimonianze che sono raccolte in tantissimi testi e lo stesso padre pio capuano ne raccoglie diverse attraverso questo dono padre pio avvertiva guidava consigliava sorreggeva esortava nella preghiera al pentimento dei suoi figli spirituali e soprattutto anche di coloro che non lo conoscevano ecco che non conoscevano la sua vita la sua storia a tra l'altro accade ancora oggi e lo stiamo avvertendo anche attraverso tante mail che stiamo ricevendo ecco questo dono questo carisma che aveva padre pio che continua così ad invitare scrive padre pio capuano alla conversione affinché ci si tenga lontano dal peccato esercitando così le virtù come facendo penitenza intensificando l'orazione per avere così la certezza della protezione di dio e confidare con sicurezza nella sua intercessione presso dio e quindi in conclusione quando si parla dei profumi di padre pio e qui padre pio capuano in questo testo ha fatto un elenco di quelli che possono i possibili significati legati a questi a questi profumi ecco quello di padre pio il profumo di padre pio è un richiamo un segno della sua benevolenza della sua protezione ma soprattutto della sua presenza